PopOS continua ad aggiornarsi siamo su PopOS 21.10 vi faccio vedere l'ultima aggiunta che è stata fatta al menu mostre applicazioni che è stato ridisegnato, come potete vedere abbiamo un nuovo layout con tutte le varie categorie reggruppate in basso possiamo creare una nuova cartella mettiamoci un nome di test dove andare a trascinare le nostre applicazioni in modo da organizzarci come meglio ci piace come potete vedere è tutto più compatto è anche più carino a vedersi possiamo rinominare possiamo rispostarci le cose qua e là, adesso lo spostate perché adesso vi faccio vedere che cosa succede quando si va a cancellare una cartella quindi più carino più organizzato fatemi sapere cosa ne pensate